Quali vantaggi si possono ottenere nell'adottare un gestionale in un momento come questo dove la velocità nel prendere decisioni e nell'analizzare le proprie attività è indispensabile per sopravvivere nel mercato? Oggi il mercato degli ERP in generale, di Microsoft Dynamics SNAV in particolare, hanno come caratteristica quella di essere di aiuto, di riferimento per la gestione delle informazioni aziendali che quindi sono tutte omogenee, sono certificate, sono aggiornate. Quindi questo consente ai vari utenti di avere un accesso facile alle informazioni e una visione anche prospettica, proprio tipica del settore in cui si devono fare delle analisi. Quindi il fatto di potersi avvalere di dati certi, in momenti certi, su segnalazioni, su alert che possono arrivare dal sistema aiuta molto gli imprenditori, il management a fornire delle risposte centrate, immediate, veloci nel momento in cui servono e quindi aumentare la competitività sostanzialmente delle singole aziende. Esistono dei gestionali specializzati nel settore dell'edilizia? Sì, all'interno per esempio del gruppo NavLab noi abbiamo elaborato delle verticalizzazioni che partono da una base comune che deve essere per tutte le aziende e che quindi appoggia sulla struttura dell'ERP, ma che consentono poi di adattarsi molto bene alle specificità delle singole realtà. Spesso affrontiamo anche delle realtà in cui delle aziende hanno il core business nei prodotti per l'edilizia, ma magari hanno poi anche altre aziende che hanno delle finalità diverse e oggi l'obiettivo è quello di riuscire a consolidare tutte le informazioni, avere dei flussi finanziari omogeni, avere delle decisioni strategiche anche qui che seguono una linea comune per tutte le aziende del gruppo. Il prodotto Microsoft Dynamics Nav è un prodotto internazionale, quindi da una parte abbiamo il vantaggio di poter rispondere anche a realtà che hanno sedi periferiche all'estero e dall'altra abbiamo, nelle nostre verticalizzazioni e nelle soluzioni che proponiamo, il contributo di partner esteri che hanno creato delle verticalizzazioni ad hoc per i singoli settori. Quali sono, secondo la sua esperienza, le funzionalità più interessanti e più importanti per un produttore e un distributore di materiali per l'edilizia? Ma c'è da tenere conto che comunque entrambe le aziende hanno delle problematiche che sono comuni e ormai tutte le aziende devono controllare i flussi di cassa, standardizzare le loro attività, le loro procedure e tenere sotto controllo quelli che sono i parametri che ti fanno andare bene in un'azienda o meno. Poi è chiaro che oggi per un distributore, uno dei problemi più grossi, un distributore di materiali edili uno dei problemi più grossi è quello di cercare di automatizzare tutto l'aspetto dei listini, della gestione dei materiali riuscire a capire quando deve comprare e cosa deve comprare a seconda del momento della stagione e degli eventi che ci sono se parliamo di aziende di produzione sicuramente il controllo della commessa e quindi avere una possibilità di capire bene la marginalità delle attività che svolge, quando comprare i materiali, quando servono, quando vanno in produzione sono sicuramente gli aspetti che in questo momento caratterizzano le necessità delle singole aziende di questo settore. E i punti di forza di Microsoft Dynamics Nav? Sicuramente tra i punti di forza, oltre a quelli che abbiamo già accennato in precedenza, c'è quello di avere una facilità d'uso e una fruibilità di tutte le informazioni molto semplice e veramente orientata all'utente che è già abituato ad operare gli strumenti Microsoft e che quindi si ritrovi in un ambiente sicuramente familiare ed omogeneo. Direi che tra gli altri aspetti c'è quello di fornire un supporto all'azienda nelle fasi di crescita cioè a un prodotto che è talmente modellabile che quindi non parte con una rigidità iniziale che uno si porta nel tempo ma riesce a seguire e adattarsi bene alle esigenze dell'azienda. È un prodotto completo perché tocca tutte le aree funzionali, compreso quelle del CRM, della Business Intelligence e via via. E da ultimo, cosa credo importante, garantisce una protezione nell'investimento. Noi oggi abbiamo una visibilità a dieci anni di quelli che saranno gli sviluppi del prodotto e quindi possiamo offrire ai nostri clienti una garanzia che questo prodotto terrà il passo con la tecnologia, con l'evoluzione della tecnologia, con l'evoluzione del mercato e delle cose che il nostro futuro ci prospetterà. Ma in un mondo connesso come quello che stiamo vivendo oggi, dove ci sono i social media, la gestione del cliente è sempre più complicata e la relazione con il cliente, la sua centralità è indispensabile per un'attività. Quindi la tecnologia come può aiutare in questo senso un'azienda? Ma quella della centralità del cliente effettivamente è una delle tematiche su cui gli imprenditori in questo momento sono sicuramente più sensibili. Il fatto di avere un partner come Microsoft, che comunque è un leader di mercato, nell'ambito tecnologico ci aiuta molto perché evidentemente ci continuano a fornire delle soluzioni sempre più integrate con questo tipo di mondo. Non abbiamo parlato, ma oggi l'ambiente cloud è un ambiente importantissimo ed è questo prodotto, è un prodotto che quindi ti consente di vedere le tue informazioni quando vuoi, dove vuoi, sul supporto che in quel momento hai a disposizione. L'altro discorso è quello del CRM e quindi della gestione della relazione col cliente. Sotto questo profilo abbiamo un ottimo prodotto che si chiama Dynamics CRM e che si integra col gestionale tradizionale e che in questo momento va anche a toccare quelle aree che sono emergenti come il social, la business intelligence e via via, che sono poi degli aspetti che ci consentono di tenere in considerazione quello che il mercato ci sta dicendo e che magari a volte non ce ne stiamo coggendo. Le aziende però temono anche la migrazione dei dati che potrebbe creare qualche problema sia all'attività che al sistema intero. Come si può ovviare questa difficoltà? Se è una vera difficoltà o è una percezione del cliente? L'aspetto legato alla migrazione dei dati, alla migrazione dei sistemi informativi è sicuramente una delle cose che angosciano di più chi deve prendere decisioni su questo tipo di cambiamento. Devo dire che il gruppo Navlab ha al suo attivo 500 progetti informatici e devo dire che quasi tutti venivano da situazioni di progresso in cui avevano un sistema informativo e sono stati tutti tragrettati verso soluzioni che sono, posso dire, soddisfacenti, molto soddisfacenti per loro. Come gruppo noi abbiamo sviluppato una piattaforma che si chiama Tempo Zero e che ha delle funzionalità che completano l'IRP e tra queste ci sono per esempio dei connettori per andare a prendere dei dati da gestionali che vengono sostituiti dal tipo di prodotto. E questo ci aiuta molto nel garantire tempi certi, costi certi e nel portare quelle informazioni, solo quelle informazioni che sono importanti per l'azienda che sono il patrimonio dell'azienda ma che non vanno poi a penalizzare lo sviluppo e le potenzialità del prodotto IRP che andiamo a offrire.